Il metodo Giuntoli tra business sostenibile, prospezioni e trasferimenti, così ha convinto la Juve. Insieme a Quarazchelia. La press. La signora di Cristiano Giuntoli non è il più classico lampo di scudetto. Se i piani superiori della Juve vogliono affidare il nuovo corso alla Toscana di esse non è tanto per il tricolore storico, ma per il lavoro svolto alla corte di Aurelio de Laurentiis in questi otto anni. Una salita continua e sostenibile. Non a caso il nome Giuntoli esiste da qualche anno. Se da Laurentiis lo permette, Giuntoli non ha ancora trovato un accordo di uscita con il Napoli, con il quale ha un contratto fino al 2024, questo sembra il momento giusto per vedere il tecnico italiano alla Juventus fiducia rafforzata dalle correnti d'aria filtrante provenienti dagli ambienti di mercato e dall'uscita di John Elcan ad i di Exor, Giuntoli? Ha molte opzioni, deciderà. In continassa, tuttavia, hanno scelto tempi ignari e si preparano ad affondare una volta che la strada è libera. Scelta dettata da ragioni diverse. Confronto tecnico La Juve è cambiata molto negli ultimi mesi, dal terremoto societario del 28 novembre, con le dimissioni del presidente Andrea Agnelli, del vicepresidente Pavel Nedvede dell'intero consiglio di amministrazione, fino all'inizio del 2023 inibizione del DS Federico Cherubini per la comparsa di Plus Valenze. I bianconeri cambiano volto e si riorganizzano rapidamente, Gianluca Ferrero presidente, Maurizio Scanavino Adi e Francesco Calvo DG. Tutti grandi professionisti, ma non giocatori in senso stretto. Da qui la necessità di assumere un manager esperto palloncino per rafforzare la leadership, garantire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.